Sindaco, situazione Covid-19 nel comune di Giulianova, possiamo dire che la situazione si è un po' più tranquillizzata rispetto alle settimane scorse? Sì, assolutamente sì, c'è anche meno pressione sugli ospedali, soprattutto sull'ospedale di Giulianova, questo ci fa piacere. Il dottor Delemono, che è il responsabile Covid del nostro presidio ospedaliero, ci ha detto che insomma sono più i dimessi che i ricoverati. Questo ci fa veramente ben sperare. I numeri sono sempre numeri importanti, Giulianova ricordo però a tutti è l'undicesimo comune per grandezza della regione Abruzzo ed è nella classifica il decimo comune per il numero di contagi totali che sono all'incirca 350, all'incirca perché l'ASL comunica praticamente ogni ora i numeri e sono sempre aggiornati. Detto questo, ricordo a tutti però che nell'RT, quindi l'indice popolazione contagi, Giulianova è sicuramente messa molto meglio rispetto a tantissimi altri comuni che hanno una popolazione molto più bassa e numeri di positivi che sono molto alti rispetto appunto al numero di abitanti. Ecco sindaco, permane però ancora il problema legato ai disservizi tra i numeri dati dalle strutture pubbliche, dall'ASL e quelle dati dai privati? Sì, è un disservizio che c'è ancora, lo stiamo migliorando, la situazione è diversa rispetto a quella di un mese fa, l'ASL sta tentando di smaltire tutti questi tamponi arretrati con i famosi drive-in che sono stati posizionati, la situazione è comunque una situazione di difficoltà e noi ce ne rendiamo conto appunto dai tracciamenti perché comprendete bene che se abbiamo 350 positivi a Giulianova bisognerebbe tracciare circa 4-5 mila persone, cosa che invece non avviene. Naturalmente cerchiamo di dare il nostro supporto anche noi alla ASL con gli uffici comunali in ogni maniera e cerchiamo tutti insieme di uscirne fuori nel minor tempo possibile, limitando appunto i contatti, portando la mascherina e cercando di fare una vita sociale al minimo, ridotta al minimo, se non per lavorare, portare i figli a scuola e andare a fare la spesa. Grazie